bentornati a questa puntata di beauty for you io sono eleonora la vostra beauty trainer e oggi oggi avremo due ospiti molto speciali vi do un indizio si presentano solo se sono perfette scommetto che ci siete quasi arrivate vediamo un po chi sono le nostre mani oggi parleremo oggi parleremo di come mantenere a casa le nostre mani innanzitutto vi do un consiglio finché siamo in questi momenti che siamo spesso a casa e non abbiamo la possibilità di farci una manicure dall'estetista vi consiglio di tenere corte le unghie in modo da non spezzarle ovviamente mettetevi sempre il trasparente se ce l'avete a casa in modo che così almeno si rimangano un attimino protette oggi io il trasparente non ce l'ho perché vi farò vedere un trattamento che magari vi impegnerà per qualche minuto in più ma vi darà degli ottimi risultati per quanto riguarda unghia cuticola e pelle andremo a lavorare con due prodotti uno è il specialist and oil e poi con la nostra and cream sempre della nuova linea specialist mani e piedi come funziona il nostro olio all'interno a una pipetta come vedete cosa andremo a fare si va a mettere su ogni dito della mano una goccina di olio vedete e massaggiate qui andremo a nutrire sia l'unghia che la cuticola l'olio è stato scelto proprio perché arriva dappertutto quindi qui fa quelle fastidiose pellicine che magari si seccano e vi danno fastidio magari tirate con questo olio si andranno ad ammorbidire lo fate su tutte e 5 le unghie anzi su tutte e 10 ovviamente dopodiché si andrà a metterla crema prendete un po di crema tra le mani in questo caso se avrete anche un po di pelle secca soprattutto nel dorso della mano vi consiglio di aggiungere tre gocce di olio quindi miscelate assieme i due prodotti e vi massaggiate la mano magari portate più attenzione anche al polso fatevi due coccole in più rispetto al classico mettere la crema in velocità lavorate bene il panno della mano questo cuscinetto che a volte lo sentiamo indolenzito vedrete questo qui magari voi lo fate con il pollice che avete più pressione il centro della mano fate di bei cerchiolini ogni dito è molto rilassante massaggiare le mani se lo fate soprattutto la sera prima di andare a letto è una coccola fantastica bene io con le mani belle morbide vi consiglio di farlo magari tre volte a settimana ok se vi piace l'idea ogni sera magari le vostre mani vi ringrazieranno io vi saluto per oggi è tutto e vi mando un bacio e ricordatevi beauty for you